Salve a tutti! Eccoci qua per la seconda lezione sul verbo. Riprendiamo un attimo il discorso vedendo cosa abbiamo imparato nella lezione precedente. Nella prima lezione abbiamo cercato di capire cos'è il verbo, a cosa serve, come è formato e quando si usa. Abbiamo anche visto che i verbi si possono dividere in tre grandi gruppi chiamati coniugazioni, se vi ricordate i verbi che finiscono in are, ere, ire, che i verbi essere e avere, che chiamiamo anche ausiliari perché fanno da aiutanti ad altri verbi, hanno una loro coniugazione a parte, quindi non seguono le regole delle tre coniugazioni. E poi abbiamo imparato che i verbi cambiano in base alla persona a cui si riferiscono, chi parla, chi ascolta o qualcuno diverso da chi parla o ascolta. Quindi chi parla, io o noi, chi ascolta, tu, voi o qualcuno di diverso, lui, lei o loro. In questa lezione invece parleremo dei tempi verbali, che cosa sono, quali e quanti sono, come e quando si usano. Iniziamo. Il tempo. Il verbo ci fa capire non solo di chi stiamo parlando, chi fa l'azione, ma anche il tempo delle azioni, cioè quando l'azione avviene. Cioè, se avviene adesso, in questo momento, quindi il tempo è un tempo presente. Se l'azione avviene prima, e allora abbiamo un tempo passato. Se l'azione avvierà poi, dopo, quindi dopo il momento di adesso, e quindi abbiamo un verbo al futuro. Il presente. Prendiamoli uno per volta. Il presente, usiamo il presente se l'azione si compie nel momento in cui si parla. Vediamo poi che si usa anche in altre situazioni, però diciamo che il tempo presente è quello che viviamo in questo momento. Quindi, ora leggo un bel libro. Il passato. Nel passato l'azione è già avvenuta. Un altro esempio. Ieri sono andato a Milano. Da piccolo giocavo a palla. Il futuro. L'azione deve ancora essere compiuta. Domani andrò a casa di Marco. Domani deve ancora venire. Quindi, ovviamente, nel presente ci sono anche altre situazioni. Però, adesso, cerchiamo di capire che esistono dei tempi nel presente, più di uno, nel passato e nel futuro. Lì andremo a considerare uno per uno più avanti. Adesso stiamo facendo un discorso più in generale. I tempi verbali. I tempi verbali sono molti in italiano, ma nei percorsi a uno e a due se ne studiano solo alcuni. Come abbiamo già detto, ci sono tempi semplici e tempi composti. Vi ricordate? I tempi semplici sono formati da una sola parola, che è un verbo. I tempi composti, invece, sono formati da due parole. Il verbo avere, oppure il verbo essere, accompagnato dal verbo con cui si vuole indicare l'azione. Quelli che noi impareremo nelle prossime lezioni saranno, tra i tempi semplici, il presente. Un esempio è mangio. E l'imperfetto, che è un tempo passato, mangiavo. Da piccolo mangiavo. E poi il futuro, mangerò domani, mangerò la pasta con i pesci. Invece, tra i tempi composti, andremo a vedere il passato prossimo. Ho mangiato. I tempi composti hanno il verbo. In questo caso c'è il verbo avere con il verbo mangiare. Oppure il futuro anteriore, avrò mangiato. Oltre a questi, ci sono altri tempi verbali, che si presentano però in un modo diverso da questi. Infatti, fanno parte dei tempi verbali di modo indefinito. Perché questi di cui parlo, che vi ho presentato adesso, il presente, cioè io mangio, tu mangi, noi mangiamo. Anche l'imperfetto, io mangiavo, loro mangiavano, noi mangiavamo. Stessa cosa per i tempi composti, ho mangiato, voi avete mangiato, noi abbiamo mangiato, e così via. Mentre, cosa succede nei verbi indefiniti? Li impareremo più avanti. Ora però vediamo solo di cosa si tratta. I tempi di modo indefinito non danno informazioni sulla persona cui l'azione si riferisce, come abbiamo detto prima, io, tu, noi, sono più in generale. I tempi indefiniti sono l'infinito, il gerundio e il participio. Vediamo ora cosa servono. L'infinito si usa se si vuole indicare un'azione senza alcuna precisazione. Il modo infinito esprime solo il significato del verbo, senza dirci chi compie l'azione o quando la compie. Quindi mangiare, dormire, cantare. Abbiamo visto che ci serve anche per capire. Vedete, cantare, cadere, dormire, ci serve anche per capire a quale coniugazione appartiene un verbo. Quindi vedo che questo appartiene al primo gruppo, prima coniugazione, questo alla seconda e questo alla terza. Esattamente come viene spiegato qui sotto. È importante conoscere il modo infinito perché è quello che si deve cercare sul vocabolario. Quindi se io voglio conoscere il significato del verbo io cado, devo cercare non cado, ma cadere. Ma ci serve anche per capire a quale coniugazione appartiene per usare un verbo, per usarlo in modo corretto. Il participio invece ha due tempi, un tempo presente e un tempo passato. Il participio presente è poco usato e noi non lo studieremo. Perché lo usiamo poco anche in italiano. Mentre il participio passato si usa molto e serve da solo per indicare un'azione avvenuta in precedenza. Avete ancora, questo è un esempio, avete ancora quella bella maglia rossa? No, venduta. Quindi non dice se l'ho fatto io o chi l'ha fatto. In generale, venduta non c'è più. L'albero bruciato dal fuoco è stato abbattuto. Quindi una cosa che è successa nel passato ma non ti dice esattamente quando e neanche chi lo ha bruciato. Poi il participio passato si può usare, unito ai verbi ausiliari, essere avere, come abbiamo visto prima, per formare i tempi composti. Quindi ieri ho mangiato una pasta buonissima. Quindi il verbo avere aiuta il verbo mangiare per fare il passato prossimo, che è un tempo composto. L'anno scorso sono andata. Qui in questo caso è il verbo essere che va a aiutare il verbo andare, per formare un tempo passato composto. Attenzione, il participio viene spesso usato anche come sostantivo o nome. Sostantivo e nome sono la stessa cosa. Nome è nel linguaggio comune, sostantivo è nel linguaggio della grammatica. Quindi il cantante, l'insegnante, il bollito. Vedete c'è l'articolo. In questo caso non dico bollito come bruciato, ma c'è l'articolo. E quindi in questo caso viene usato come un nome. Lo vedremo meglio più avanti. Oppure viene usato come aggettivo interessante, bollente e profumato. Questa parte riguarderà verso la fine del percorso che farete, perché è un pochino più complessa. Qui viene solo accennata, ma verrà ripresa molto più avanti. Il gerundio. Il gerundio ha due tempi. Il gerundio presente, mangiando, è un tempo semplice formato da una sola parola, pagando, partendo. Il passato, che invece è un tempo composto, è avendo mangiato, avendo pagato, essendo partito. Il gerundio si usa per indicare un'azione che ha con un'altra azione un rapporto di tempo, di modo o di causa. Oppure che è avvenuta contemporaneamente o prima di un'altra. Ecco, noi andremo a vedere per prima, perché è quella che si usa di più, questa parte, la contemporaneamente o appena prima di un'altra. Gli altri si vedranno un pochino più avanti, ma andiamo a vedere per capire meglio. Una relazione di tempo con un'altra azione. Cosa vuol dire? Andando a scuola ho incontrato Francesco. Cioè, mentre andavo ho incontrato. Quindi, in questo tempo, nel tempo che io ho impiegato per andare a scuola, è successo quest'altra cosa. Relazione di modo. Cammina usando le stampelle. Come cammina usando le stampelle. Mentre qui era quando ho incontrato Francesco. Quindi la domanda riguarda il tempo. Quando? Andando a scuola. Qui, come cammina usando le stampelle. Quindi c'è un rapporto di modo. Oppure una relazione di causa. Avendo il biglietto sono potuto entrare. Perché sono potuto entrare? Sono potuto entrare perché avevo il biglietto. Quindi, avendo il biglietto, visto che avevo il biglietto per questo motivo, sono potuto entrare. Il gerundio presente indica un'azione che si verifica contemporaneamente a un'altra. E questa è quella che useremo di più e vedremo per prima. Camminavo guardando la cartina. Cioè, mentre camminavo, guardavo la cartina. Quindi, camminare e guardare la cartina sono due azioni che faccio nello stesso momento. Contemporaneamente vuol proprio dire nello stesso momento. Il gerundio passato indica anche un'azione che è avvenuta prima di un'altra. Questa è una situazione un po' più difficile che si vedrà, diciamo, tra le ultime verso la fine. Non avendo trovato stanze libere, abbiamo rimandato la vacanza. Quindi, non abbiamo trovato stanze libere. Quindi, prima e allora dopo abbiamo rimandato la vacanza. Questo capisco che è particolarmente difficile da comprendere, ma si farà quando avrete poi più informazioni e avremo affrontato tutti gli altri casi. Quindi, in questa lezione abbiamo parlato dei tempi verbali, ma più che altro per capire che tempi sono e come si usano, quali e come e quando si usano. Però poi, nelle prossime lezioni li vedremo uno per uno nel particolare, per capire proprio come funzionano, come si formano questi diversi tempi verbali e per saperli utilizzare in modo corretto. Il primo che studieremo, come abbiamo già detto, sarà il presente. Anche questa lezione sui verbi è terminata. Arrivederci alla prossima lezione. Ciao a tutti!